E non ho avuto proprio un rapporto sessuale, da toccarci e baciarci. Questa è la mia amica, ero venuta qui a Cascazzano, mentre giocavamo mi spesavamo che cos'è il rapporto sessuale, cioè che provi il piacevole, che provi il bene, che provi l'amore, che provi tutto il proprio sesso, cioè un specie delle cose fuori dal normale quando fai l'amore, no? Giusto? Allora, lei ha detto se provavamo, non so, noi io ho cercato e siamo andati dietro la conglia Allora, lei ha detto se provi l'amore, che provi l'amore, che provi l'amore, Allora, lei ha detto se provi l'amore, che provi l'amore, che provi l'amore. Allora, lei ha detto seché all'amore e cerchïla, che provi l'amore, che provi l'amore, che provi l'amore, per alle donne, e questo provi la provi, che provi l'amore, che provi l'amore, che provi l'amore, che disappointed tra iγi interesse, Grazie a tutti. 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 a tutti.